Sicuramente un bellissimo viaggio e riflettevo proprio questa mattina, alzandomi, di come sia stato anche azzeccato, permettetemi la parola, mettere questo percorso all'inizio, perché io deduco che noi fra un anno dovremmo, speriamo, magari fare delle attività e pensavo che se non sappiamo raccontare noi stessi, come facciamo a raccontare gli altri o a raccontare qualcos'altro o amare qualcos'altro se non sappiamo, se non ci conosciamo e se non ci amiamo. Dunque, complimenti per la scelta di iniziare proprio da qui, cioè da raccontare noi stessi. Per comprendere quello che accade quotidianamente. Molto liberatorio e diciamo che questa è la base da cui partire, quindi sono rimasto molto contento e mi porta a casa tutto, sia il lato, diciamo, i bassi e sia gli altri, tutto. E poi un'altra cosa magica, ovviamente, tutto il gruppo, la sinergia, ritrovare degli elementi tuoi in un'altra persona, cioè ho visto molta, molta unione e niente, e mi sono sentita veramente bene accolta, cioè non ho avuto, cioè io in genere sono molto timida, però mi sono sentita sicura e quindi vi ringrazio, ti ringrazio te Stefano e ringrazio tutto il gruppo perché, non lo so, ho visto delle persone veramente positive. Era importante che ci fossi qui io perché tutti insieme si diventasse un gruppo. Se insieme ci siamo riusciti, il merito è di tutti voi, di tutti noi che ci siamo messi in gioco in questa occasione e che abbiamo svolto le ore che abbiamo avuto a disposizione con il massimo della serietà, ma mi auguro tuttavia anche con quel pizzico di leggerezza che appartiene al gioco. La cosa sorprendente che notavo è che c'è molto più senso di appartenenza in questo gruppo, nonostante sia un gruppo virtuale, che non in tanti gruppi invece che hanno avuto modo di riunirsi in un luogo fisico e quindi creare una sinergia che avrebbe dovuto essere migliore, invece non lo è stata. Quindi questa è la cosa che mi ha lasciato più sorpresa in assoluto, il senso proprio di appartenenza di ognuno al gruppo. Ciao, grazie a presto. Ciao, grazie. È di tutto. Grazie a tutto. Grazie.